Ok, siamo alla dodicesima etapa del Grand Prix, finalmente è finito il Tour de Force, il Tour de Force è anche piacevole, diciamo, faticoso ma piacevole perché c'è stata molta dimostrazione di grande partecipazione e anche questa sera qui all'ultima etapa abbiamo visto una forte adesione. Diciamo che adesso ci lasciamo, pensando all'anno prossimo, nel frattempo poi ci saranno altre iniziative le ultime due saranno il 3 di luglio a Cavagliano, la piscina di Cavagliano, sempre di 6 km il martedì 3 luglio poi il 10 luglio ce ne sarà un'altra a Gagliate per l'Atletica Gagliate e poi altre iniziative che mi coinvolgono diciamo il Casalessia, la preparazione della mezza maratona e tanto altro, diciamo che tempo per riposarmi ce n'è poco io dico adesso basta, adesso basta, invece purtroppo mi coinvolgono, ho ricevuto anche richieste da parte di associazioni di medici e di altro che mi chiedono se cortesemente gli metto in piedi qualche iniziativa che possa tornare utile alla loro realtà. Caloroso saluto agli amici del sito cittadinovara.com che io conosco da poco ma adesso cercherò di approfondire di più lo vedo ma anche tanti gli impegni sono, però è ben fornito.